Musica La campagna corre subito ai ripari dopo il picco di contagi giornalieri resi noti nel bollettino diramato nel pomeriggio di giovedì 15 ottobre dall'unità di crisi della regione campagna è stata sforata infatti quota mille nuovi casi in un giorno nello specifico sono 1127 i positivi emersi su un totale di 13.780 tamponi analizzati mercoledì nei laboratori regionali di questi 72 sono sintomatici mentre il numero dei nuovi guariti registrati è pari a 317 così il governatore Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza 79 del 15 ottobre contenente ulteriori misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19 adottando disposizioni rigorose con il duplice intento di limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito privato e pubblico e con l'obiettivo di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile in particolare per il livello di contagio altissimo registrato anche nelle famiglie e derivanti da contatti nel mondo scolastico nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie sono state sospese le attività didattiche ed educative in presenza dal 16 al 30 ottobre mentre nelle università non sono consentite le attività didattiche di verifica in presenza ad eccezione per quelle relative agli studenti del primo anno decretato anche lo stop alle attività di circoli ludici e ricreativi sono vietate le feste anche conseguenti a cerimonie civili o religiose in luoghi pubblici aperti al pubblico e privati al chiuso all'aperto con invitati estranei al nucleo familiare convivente e inoltre fatta raccomandazione agli enti uffici competenti di differenziare gli orari di servizio giornaliero del personale in presenza a tutti gli esercizi di ristorazione invece è vietata la vendita con asporto dalle ore 21 resta consentita la consegna a domicilio senza limiti di orario non sono mancate le polemiche e malumori per le decisioni inerenti alla scuola il ministro dell'istruzione Lucia Zolina ha parlato di una decisione gravissima, profondamente sbagliata e anche inopportuna a protestare contro il provvedimento un gruppo di genitori che questa mattina si è radunato sotto Palazzo Santa Lucia e anche gli autisti degli scuolabus che chiedono un sostegno economico per le ripercussioni sulla loro attività del blocco della didattica in presenza la rapida risalita della curva dei contagi relative alla diffusione del covid-19 non risparmia nemmeno cavare tirreni infatti allo Stato sono ben 49 cittadini attualmente positivi al coronavirus come spiegato dal primo cittadino Vincenzo Servalli soltanto una persona è ricoverata in ospedale gli altri invece sono tutti asintomatici o con lievi sintomi ben 80 persone invece si trovano sottoposte alla sorveglianza del Dipartimento di Prevenzione dell'Asla ci troviamo in piena seconda ondata del covid-19 e tuttavia con alcune caratteristiche un po' diverse rispetto alla precedente ondata intanto i nostri 49 casi positivi di covid che registriamo nella nostra città ecco uno solo di questi ha richiesto il ricovero ospedaliero e la stragrande maggioranza di questi sono asintomatici cioè non presentano nessuna delle caratteristiche del covid l'alta temperatura, la dispnea, la difficoltà respiratoria e così via stanno sostanzialmente bene la stragrande maggioranza di questi ma sono ovviamente in quarantena in isolamento domiciliare e in questo momento quindi a fronte di 49 positivi di una sola persona ospedalizzata abbiamo anche 80 ulteriori persone che sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria del dipartimento di prevenzione un ulteriore elemento che dobbiamo osservare di diversità almeno da quello che è la esperienza che abbiamo vissuto è che mentre in quella fase erano soprattutto gli anziani ad essere, a risultare positivi al tampone faringeo adesso evidentemente l'età colpisce tutte le fasce d'età ripeto, con la caratteristica di essere asintomatico ma noi abbiamo bambini, abbiamo giovani, abbiamo ragazzi, adulti e così via ed anche anziani insomma il coronavirus come abbiamo sempre detto è ancora tra di noi e tuttavia nella ultima settimana di ottobre abbiamo dovuto registrare un incremento notevolissimo cioè l'evoluzione del contagio è diventata estremamente rapida con l'aumentare dei casi positivi anche nella città metelliana tuttavia non mancano le problematiche per quanto riguarda i ritardi nell'esecuzione dei tamponi e del rilascio dei risultati situazione aggravata anche dalla carenza di personale al dipartimento di prevenzione epidemiologica dell'ASL chiamata a gestire anche l'emergenza non soltanto a Cava dei Tirreni ma anche in altri comuni del circondario insomma è una situazione delicata oggi siamo tutti più pronti anche se devo aggiungere che stiamo avendo qualche difficoltà nella realizzazione del tampone nella esecuzione e nella dare il risultato passano molti giorni perché sta anche aumentando il numero di tamponi che vengono processati e ci sono delle difficoltà di carattere organizzativo intanto a Vietri sul mare nella giornata di ieri si è registrato un nuovo caso positivo al covid-19 il sindaco Giovanni De Simone ha fatto sapere di aver attivato tutti i protocolli e messi in quarantena i contatti stretti al momento sul territorio vietrise risultano in totale due casi positivi quattro decreti di sequestro preventivo i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli hanno proceduto al sequestro di quattro aziende operanti nel settore della metallurgia pesante dell'attività conserviera nei comuni di Striano, Pagani e Scafati i legali rappresentanti delle aziende sono ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di scarico abusivo di reflui industriali, abbandono di rifiuti speciali pericolosi e in un caso anche del reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione il sequestro preventivo delle aziende secondo quanto concordemente ritenuto dai GIP di Nocera Inferiore e Torre Annunziata si è reso necessario per impedire il protrarsi dei reati accertati e l'aggravamento delle conseguenze degli stessi e così da evitare la compromissione ulteriore dell'ambiente circostante dalle indagini espletate dai carabinieri del NOE di Salerno e Napoli che si sono avvalse della collaborazione tecnica dell'ARPA che coordinate rispettivamente dalle procure di Nocera e Torre Annunziata è emerso che la SRL i Sapori di Corbara con sede operativa Pagani operante nel settore della produzione e commercializzazione di conservi alimentari effettuava lo scarico delle acque reflui industriali provenienti dall'attività di lavorazione in assenza di autorizzazione mentre la società dei fratelli Cavallaro società agricola con sede operativa Scafati operante nel settore della lavorazione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli aveva effettuato lo scarico nella pubblica affognatura delle acque reflui industriali provenienti dall'attività di lavorazione in assenza di autorizzazione scaduta da 5 anni e per aver smaltito illecitamenti rifiuti speciali provenienti dall'attività produttiva negli ultimi 3 anni scarico delle acque reflui industriali in assenza delle previste autorizzazioni e per aver esercitato l'attività in assenza di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per la GIMALSRL con sede operativa Striano operante nel settore delle lavorazioni di metallurgia pesante anche la Agri Conserve Rega con sede operativa Sant'Antonio Abate operante nel settore della produzione e commercializzazione di conservi alimentari attualmente chiusa per la pausa stagionale delle attività si attribuisce lo scarico delle acque reflui industriali in assenza delle previste autorizzazioni I sequestri operati oggi si inseriscono in una più ampia articolata attività investigativa condotta in modo capillare dai carabinieri del Comando Tutela Ambientale e dai carabinieri forestali avvalendosi della collaborazione tecnica del personale dell'ARPAC finalizzata ad accertare le cause dell'inquinamento del fiume Sarno per individuare eventuali scarichi abusivi di reflui industriali recapitati direttamente o indirettamente nel fiume e per interrompere le attività illegali che influiscono negativamente sullo stato di salute del corso d'acqua si è tenuta ieri sera al Cinema Metropol di Cava dei Tirreni la prima nazionale del film Alessandra Un grande amore e niente più di Pasquale Falcone prodotto da Pragma una commedia sentimentale ambientata su un'isola fantastica che strizza l'occhio al musical che ha visto la partecipazione di un cast di primordine tra i protagonisti da segnalare Sergio Muniz e Sara Zanier grande rivelazione per la sua prima esperienza per il grande schermo Elisabetta Facchini che ha interpretato il ruolo di Alessandra partecipazione speciale anche per Peppino Di Capri che ha eseguito nel film una versione riarrangiata di Un grande amore e niente più brano con il quale vinse il festival di Sanremo nel lontano 1973 alla prima era presente gran parte del cast ascoltiamo i protagonisti intervistati da Imma della Corte Pasquale Falcone questa volta un film d'amore tre generazioni tanta musica come nasce quest'idea? Un'idea semplice da un vecchio ricordo di gioventù da un'esperienza di vita affrontata però a me è andata bene nel senso una gravidanza in attesa quando si era giovanissimi però è stato un bene perché adesso quel piccolo incidente adesso ha quasi 40 anni e mi ha regalato due nipotine e quindi volevo raccontare la cosa più semplice e più banale del mondo che è l'amore a volte è anche in imbarazzo nel raccontare delle banalità però l'amore è il motore che fa vivere la nostra vita nel bene e nel male abbiamo avuto bellissime recensioni oggi è la prima qui a Cava e purtroppo i tempi sono quelli che sono un film piccolo piccola distribuzione è un film garbato che è scritto all'occhio al musical qualche critico ci ha anche detto che forse abbiamo usato poco per il musical all'inizio ci avevano detto no il musical non funziona ma adesso che l'hanno visto ah però qualcosa di più ci poteva essere di musical comunque siamo molto contenti già il fatto di poter fare questa prima saremo in 10-15 sale in campania forse da lunedì qualche sala nazionale questa è la vita dei piccoli film ma è una vita bella fatta col cuore Nicola D'Aura produttore produttore di film in particolare di Alessandra l'emozione di produrre un film e ancora più di produrre un film d'amore come questo? Allora produrre è un qualcosa di molto complicato oggi in Italia e in effetti arrivare in sala soprattutto in questo momento storico è un qualcosa di formidabile avevamo una prima uscita il 19 marzo purtroppo il covid col primo lockdown ci ha stroncato e per fortuna siamo riusciti ad infilarci in questa finestra sperando che ci facciano fare le nostre settimane al cinema Io sono qui per vedere la prima pure io non ho ancora visto il film nemmeno la mia parte per cui sono curioso di capire come mi hanno collocato il set era molto interessante la zona, l'atmosfera, l'ambiente e quindi sono curioso di vedere se posso cambiare messiere Io mi sono divertita tantissimo con Pasquale devo dire che si sta sempre bene il cast è fantastico abbiamo girato nel Cilento quindi sono state girate molte scene anche sul mare diciamo che erano ovviamente quando si gira si lavora può capitare la battuta ma si lavora principalmente i momenti divertenti sono stati fuori dalla scena quando ci sono state delle partite di pallavolo in spiaggia cose del genere quindi insomma è una commedia dolce romantica sentimentale c'è un po' di musical dentro quindi in questo momento che è un po' pesante andare al cinema e vedere delle cose divertenti allegre che ti fanno ben sperare penso siano la cosa ottimale è stato veramente emozionante soprattutto perché io in realtà non ero mai stata davanti ad una telecamera quindi per me è stato ancora più emozionante e in più appunto abbiamo visto dei posti magici e tra l'altro un cast meraviglioso con persone bellissime abbiamo subito fatto gruppo è stato emozionante ho avuto tanti consigli molto buoni soprattutto ovviamente da Sara Zanier con cui ho stretto molto e anche Sergio con cui avevo già lavorato in un musical in Mamma Mia e insomma è stato davvero emozionante io tra l'altro non ho ancora visto non c'ero all'anteprima perché stavo lavorando in Olanda perciò questa è la prima volta che io vedo il film una piccolissima partecipazione ma mi ha fatto piacere esserci perché Pasquale Falcone lo ritengo un bravo regista e mi aspetto che poi farà un film che si ricorderà di Giacomo Rizzo e mi chiamerà per fare un ruolo un po' diverso un po' più lungo è stato un parto veramente però siamo contenti siamo arrivati finalmente alla fine speriamo che il film piaccia e noi ci abbiamo creduto dall'inizio in questo film sì per me è davvero importante essere qui stasera perché c'è una scena che tra l'altro è la mia preferita ed è quella che rappresenta il film in maniera proprio più forte ed è la scena della canzone dove siamo tutti quanti insieme e Pasquale ha fatto davvero un ottimo lavoro io per me è stato davvero sia divertente anche un onore camese e viterbese saranno di fronte domenica a Lamberti per la quinta giornata di campionato nel periodo del covid-19 mancherà quasi certamente il pubblico il che potrà danneggiare in parte la squadra di casa per cui sarà fondamentale ricercare gioco e idee qualche cambiamento in formazione ci sarà per mister Modica che sa già di dover rinunciare ad Andrea ed Esposito mentre per quanto riguarda l'attacco e la difesa non si prevedono variazioni cavese e viterbese avrà inizio alle ore 15 e allo stato attuale la squadra a cui lotta sa già che potrebbe disputare fino alla fine del girone d'andata più partite nel pomeriggio giovedì prossimo infatti sarà in campo a Castellammare contro la Juve Stabia alle 20.45 poi giocherà contro Monopoli e Bisceglie alle 15 ma ieri la Lega Pro ha comunicato anche tutte le variazioni di orario successive fino a metà gennaio domenica primo novembre il giorno di ogni santi i bianco blu faranno visita al potenza dell'ex Mario Somma e inizieranno alle 17.30 poi torneranno in campo già sabato 7 a Lamberti al cospetto della ternana di mister Lucarelli con inizio alle 20.45 mercoledì 11 nel turno infrasettimanale la cavese avrebbe dovuto giocare a Trapani ma a causa dell'esclusione del club siciliano dalla C si potrà riposare e avrà più giorni a disposizione per preparare la successiva sfida casalinga con il Foggia che si disputerà domenica 15 novembre alle 17.30 la dodicesima giornata vedrà i metelliani in campo in orario classico domenica 22 novembre alle 15 contro il Catanzaro allo stadio Ceravolo il giorno 29 c'è il darby di cavese casertana alle 17.30 prima della susseguente gara sul terreno del Catania che per i bianco blu sarà domenica 6 dicembre alle 15 orario classico anche per cavese Virtus Francavilla di domenica 13 dicembre alle ore 15 mentre l'anno solare 2020 i metelliani lo concluderanno a Teramo sabato 19 dicembre con fischio di avvio alle 20.45 e poi mercoledì 23 a Torre del Greco con la Turris sempre alle 20.45 l'inizio del 2021 vedrà la cavese inaugurare il girone C a Lamberti con il Palermo si giocherà sabato 9 gennaio anche in questo caso in notturna poi si giocheranno tutte le altre partite e il girone d'andata la squadra di Modica lo concluderà con l'Avellino domenica 17 gennaio alle 17.30 qualche variazione ulteriore di orario ovviamente potrà avvenire in considerazione degli accordi che le società prenderanno intanto è annunciato per martedì 20 ottobre il ritorno della nostra trasmissione sportiva Aquilotti Social Club condotto da Fabio Apicella e tutti martedì sera alle ore 21 una mostra audio video fotografica sugli sport intitolata lo sport in vetrina potrà essere visitata oggi giorno dell'inaugurazione poi domani e dopo domani dalle 18.30 alle 21.30 presso il complesso di San Giovanni a Cava dei Tirreni ingressi però contingentati non più di 30 persone in un periodo tutt'altro che facile per lo sport in Italia l'evento è stato voluto dall'associazione Siddhartha Club con la collaborazione dei Fighters del Moffa Team Fighting del Team Negro e del Team Leader date le limitazioni che sono state imposte dal governo per contenere il più possibile la circolazione del nuovo coronavirus occorre aspettare ancora tempo prima di poter tornare a sfidarsi a livello amatoriale e nell'attesa si può contemplare ciò che fa parte del passato pensando magari anche al futuro sperando che possa essere roseo ospiti della manifestazione Angelo Musone per il pugilato Tiziana Ruocco per il lancio del giavellotto Paola Vaiola per la palla nuoto Giovanni Postiglione in qualità di docente di scienze motorie Rosanna Pagano per la scherma Gianni Beffa per il kickboxing Vaco e anche i maestri Gianluigi e Gennaro Moffa numerosi premi per tutti loro e anche per gli atleti in occasione della serata di domenica domani sarà previsto in particolare un convegno su sport e disabilità e anche sul ruolo dei genitori in caso di episodi di bullismo e a contorno sarebbero previste alcune esibizioni di danza ai nostri microfoni Antonio Sorrentino del Siddhartha Club che riveste un ruolo importante nell'organizzazione della mostra e anche il consigliere comunale Luca Narbone abbiamo dato questo titolo lo sport in vetrina perché come dicevo prima porterà una ventata di benessere che ne abbiamo tutti bisogno non saranno solo sport da combattimento diciamo in mostra ma ci sarà la danza ci sarà il nuoto ci sarà la scherma quindi abbiamo come potete vedere dalla locandina abbiamo preso vari personaggi in campania e a Cava che hanno fatto parlare giornali ma innanzitutto hanno fatto tanto per lo sport italiano sicuramente noi lo stiamo continuando a fare in palestra con tanto di rispetto delle diciamo delle leggi delle anti-covid che ci hanno imposto del decreto i bambini stanno venendo in palestra abbiamo una palestra molto affidabile nel senso che disinfettiamo tutto quello che c'è da fare lo sport continua lo sport fa parte della vita delle persone lo sport fa stare bene alle persone in questo periodo così difficile con le misure anti-covid con le normative anti-covid a cui dobbiamo necessariamente attenerci è questa una novità sul territorio cittadino una mostra dove sarà possibile ammirare tutto quello che è stato lo sport a Cava di Tirreni negli anni passati e grazie all'aiuto alla collaborazione di Antonio Sorrentino siamo riusciti a portare qui a Cava di Tirreni questo evento abbastanza singolare che vedrà tra l'altro anche un momento che va al di fuori della mostra sportiva avremo infatti questa giornata questo focus in questo convegno e sul bullismo ma anche sulla disabilità nello sport la Enrico Millo sarà tra le società protagoniste della Final Four che sabato 17 e domenica 18 ottobre a Roma presso il centro tecnico della federazione italiana Bocce assegneranno lo scudetto della specialità Raffa la società di Baronissi fondata nel lontano 1893 presieduta dal 1990 da Franco Montuori ha centrato già un risultato eccellente conquistando un posto tra le migliori quattro d'Italia sia con la squadra maschile che con quella femminile in particolare i ragazzi capitanati da Francesco Santoriello hanno chiuso al primo posto il girone 1 della serie A e saranno dunque testa di serie insieme ai laziali della Boville capolista del girone 2 le altre squadre in gara che hanno ottenuto la qualificazione vincendo il turno di playoff sono i trevigiani della Fashion Cattel e gli abruzzesi della Nova Inox Mosciano il roster della Millo composto esclusivamente da atleti campani hanno vera tra le sue file Mario Scolletta Antonio Noviello Raffaele Ferrara Giuseppe Cappuccio e il campioncino Pasquale Sequino e sarà guidato da Franco Montuori che oltre ad essere presidente con grande passione ricopre anche la carica di tecnico noi giochiamo fino all'ultimo siamo arrivati già alla fine appunto sia con i maschi che con le levis e ci stiamo divertendo sai quando uno vince si diverte bene e la verità siamo già preparati un unico rammario tengo e speriamo che i ragazzi non vanno in super allenamento che può essere controproducenti li devo portare a un livello di loro standard poi non abbiamo timore dobbiamo giocare tranquillo dobbiamo giocare tranquillo con la consapevolezza che possiamo arrivare fino in poco la squadra femminile della Millo capitanata da Teresa Rescigno invece è nata nell'ambito di un progetto partito appena un anno fa e dopo essersi imposta nel raggruppamento che includeva le toscane della Cortona Bocce e le abruzzesi della Egidio Tucceri ha superato nel successivo turno a eliminazione diretta le siciliane della Ponte Ammiraglio di Palermo a Roma la Millo Ladies si contenderà il titolo con la SOMS Oristano l'Osteria Grande Bologna e la Fonte Spina Macerata per quanto riguarda il programma del grande evento targato FIB venerdì pomeriggio è in programma il sorteggio degli accoppiamenti delle semifinali che si svolgeranno sabato a partire dalle ore 10 con diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Federazione Italiana Bocce domenica invece si disputeranno le finalissime che dalle ore 9 alle 10 e 15 saranno trasmesse in diretta su RaiSport HD e a seguire sul sito di RaiSport la Millo partirà per Roma nel primo pomeriggio di venerdì con il rammarico che a causa delle limitazioni rese necessarie dall'emergenza Covid-19 il gruppo degli accompagnatori sarà ridotto il presidente Montuori non ha in serbo discorsi particolari per caricare le squadre no per caricare loro già sono cariche non c'è bisogno di dire tanto perché già sanno l'importante dell'agore io devo semplicemente buttare un po' di acqua sul fuoco e dire dovete stare tranquilli e giocare e giocate come sapete noi vinciamo grazie a tutti Autore dei sovrapposti